Piazza Moro verrà completamente pedonalizzata ma non si inibirà l'accesso alle auto, qualcuno ha fatto un po' di confusione, rimarrà un anello circolare e così come... Quindi sarà consentito il passaggio delle auto? Ci sarà una sosta breve kiss and ride per accompagnare coloro che devono partire in stazione, si lascerà una sosta breve e si ripartirà, il capolinea dell'AMTAB sarà trasferito, lì passeranno le linee del BRT e due linee di pullman di trasporto pubblico locale ma le stazioni, quelle di attesa saranno spostate nel nuovo terminal bus che stiamo facendo e finendo sulle stramurare Capruzzi. Sarà consentito il passaggio dei tassisti, sarà la pedonalizzazione dalla stazione a via Sparano tranne l'anello circolare, quindi toglieremo migliaia di metri quadri di asfalto e li sostituiremo con una bella pietra locale chiara che rimanda ai nostri colori, alle nostre tradizioni e anche incrementeremo il verde con maggiori alberature e verde insomma. Grazie